2 minuti e mezzo giocati nella ripresa a Bender si butta palla sul destro, rete di Bender Euro goal di Bender, il vantaggio dell'Atlante Grosseto Euro goal del brasiliano Bender dalla destra, la festa della panchina bianco-rossa gran conclusione dalla destra traversa interna e gol, imprendibile si riparte dunque con le immagini, vi ricordo di Galilei Gini e del commento di chi vi parla, vale a dire Pierpaolo Fognani, PPF Borrelli che va su quattrini Coccia Coccia tarda troppo, palla regalata per attenzione il tiro del raddoppio di Barelli Barelli che raddoppia 6 minuti 44 secondi si sta sfaldando un Prato già molto stanco il raddoppio dell'Atlante Grosseto Barelli è durato un tempo il fiato del Prato palla gestita male in difesa si riparte col Prato che adesso ha di fronte a sé una montagna quattrini fermato, parte De Oliveira De Oliveira, Nardi Nardi di piede che salva che succede Grazie per la visione